ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video allora oggi faremo una cosa prenderemo il telefono prima di me aspetta di qua e il telefono devo guardare sarebbe bello se fosse di mia mamma che lo potrei sempre comunque faremo una cosa che non sai cari che ho scoperto praticamente non mi ricordo quando se si deve fare questo aspetta se allora useremo questa canzone di si tipo quella la pensi che è come si fa questo effetto? tu puoi musicale in casa così poi vai qua ecco me lo faccio vedere se si può fermare un attimo la musica allora praticamente vai qua e va a rallentatore cioè qua vi faccio vedere come è venuto mettiamo la musica così si però in verità come si dovrebbe fare perchè devi muovere i capelli la metto la metto vicino quindi si vedrà molto bene oddio che stane figlio su uno di lato è fisso ok ok allora faccia tipo con i capelli come è venuto come è venuto bene ma attaccati perché mi faccio una più flex ok facciamo tipo con i capelli che fanno uuuuh in casa e stop metto e vediamo com'è qui si vede ragazzi me la faccia rilegare due volte una cosa che mi piace tanto di questa cosa è che io l'ho fatto in modo un segno particolare quindi non prendete esempio da me ok? prima cosa che non voglio fare sotto questa è la mia cosa questa è la mia cosa questa è la mia cosa mi aspetta un trovo è la mia cosa la mia cosa perchè se fai così, lo volevo farlo è più carino fai va bene fa così tieni se praticamente ti giri è una bella destra poi regolate dietro così vediamo un attimo come si avviene perfetto questo è perfetto è la perfezione ragazzi allora non prendete esempi da me come ha detto per me oppure lo potete fare così grazie non lo metto ah si va bene vedete aspettate mi devo mettere così non lo metto non lo metto ok ragazzi si poi un altro effetto di musicali che che è musicali si è non lo metto ma non lo metto è non lo metto non lo metto c'è questo effetto che a me non mi piace vabbè ragazzi il video si guarda qui ora fare un altro video tra 5 minuti